La comunità di Sant'Egidio del Monte Albino si stringe attorno alla famiglia Giordano in occasione del funerale della giovane 22enne Virginia. Nello sgomento e nello sconforto di una popolazione all'interno della chiesa di San Lorenzo Martire si è tenuta la cerimonia di addio della giovane, dove rappresenta praticamente tutta la città, dalle sue istituzioni rappresentate dal sindaco Antonio Lamura, dal consigliere regionale Nunzio Carpentieri e da diversi membri di giunta e consiglio comunale, fino alla cittadinanza semplice, a corsa per salutare e dare un supporto a famiglie e amici, distrutti nel dolore della scomparsa di una giovane ragazza, ennesima vittima della strada statale 268. Il parroco Don Salvatore Fiore all'interno dell'omelia con estremo coraggio ripercorre i passi che l'hanno portato alla conduzione del fatale rito funebre, un colpo al cuore che non nega anche qualche momento di commozione personale e collettivo. La funzione è continuata poi per concludersi con una sentitissima processione che tagliando in due la città si è conclusa al cimitero di Angri, luogo dove si è tenuta la sepoltura.